Le idol sono come divinità, brillano grazie alla forza delle bugie. E le bugie sono una forma di vero amore. Per una vera idol, riuscire a nascondere uno o due bambini non è difficile. Non importa quali difficoltà possano incombere, basta impilare bugie su bugie e sul palco dobbiamo essere sempre felici! Che lavoro fantastico! Però, ad essere sinceri, quella felicità è una cosa che voglio realmente. Sicuramente, nessuno lo capisce, ma anche noi abbiamo comunque una vita e dei sentimenti. La felicità di una madre e di un idol. Sarebbe normale averne solo una, ma io le voglio entrambe. Dopotutto, Ayoshino è una ragazza veramente molto avida. Che bella gatta da pelare. Devo trovare un modo per fermarla. Ecco che ricominci. Dopo quello che è successo, dai, capisco che tu non voglia che tua sorella intraprenda la stessa strada. Dopotutto anch'io. Se avessi fatto le cose diversamente, non sono sicura, ma magari sarebbe cambiato qualcosa. Non voglio più sentirmi in quel modo. Ho cresciuto rubi considerando la mia figlia. Ecco perché la proteggerò ad ogni costo. Però, non posso neanche negarle il suo sogno, essendo pur sempre la figlia di un'altra. Inizia a somigliare sempre di più ad Ai. Odio ammetterlo, ma ha le capacità per farcela. Era inevitabile arrivare a questo punto. In effetti il suo sguardo è davvero unico. Aveva tanta fiducia in se stessa. Allora il suo bisogno di approvazione è più che soddisfatto. Sembra che non avesse amici stretti. Ma scommetto che qualche ragazzo l'abbia avuto. Viene da un ambiente familiare sano. No, considerando il suo carattere direi l'opposto. Tende a mostrare affetto in un certo modo. Riservata, ma anche vanitosa. Perfezionista, ma anche stravagante. Indifferente, ma con un eccessivo attaccamento. Parsimoniosa, ma incurante del mondo della moda. Buona vista, ottimo dito e senso dell'olfatto. Cammina ad ampie falcate. Scarso livello di erudizione. Quando mangia, tiene le bacchette un po' storte. Segni di disturbi dello sviluppo. Squilibri e motivi tipici di chi ha avuto un rapporto sessuale durante la pubertà. Le sue tendenze autodistruttive sono migliorate intorno ai 15 anni. Che abbia conosciuto qualcuno di speciale. Ecco qua! Che ne pensate? Sei molto carina. Dopotutto bisogna essere alla moda nei giorni importanti, giusto? Non vedo l'ora! È davvero bella. Senti, Ruby, sei sicura di questa cosa? Sai che il mondo in cui stai per entrare è pieno di avversità? Potresti rischiare di non fare successo. Non parlo di soldi, ma della tua vita privata. Lo so bene! Già, qua me lo ripeti di continuo. Essere vittima di stalking è un fenomeno molto comune. Vuoi comunque... Puoi scommetterci! Questa è la mia chance. Finalmente potrò essere un idol. Potrò diventare proprio come la mia mamma! Sei sicura? Assolutamente! Allora non ti unirà a quel gruppo. Che cosa? Perché? Ma io... Voglio essere un idol! Se vuoi diventarlo, unisciti alla nostra agenzia. Dopo più di dieci anni, la Fragola Production formerà un nuovo gruppo di idol. Ragazzi, chiedo scusa per tutti i problemi che vi ho causato. Farò del mio meglio per farmi perdonare. Lavoriamo dando il massimo! Adesso torniamo a girare, forza! Coraggio. Sì. Proprio così, acqua! Che bella dormita! Devo dire che giriamo troppo presto! Oh! Ci stanno già riprendendo? Tu non hai preso un taxi? No, vivo abbastanza vicino da andare a piedi. Ora che ci penso, questo è il tuo quartiere. Un sacco di gente famosa vive qui, sai? Provo un po' di nostalgia. Sinceramente, mi piaceva molto stare sul set con voi. Davvero? Però tu non sembri essere così triste. Cioè, adesso sei il fidanzato di Akane. Non è nient'altro che un rapporto lavorativo. Beh, direi che all'inizio va bene così. Magari col tempo potreste davvero mettervi insieme. Non accadrà mai. Dici così, ma quando Akane hai interpretato Ai sei diventato rosso come un peperone. Comunque sembri saperne parecchio per non essere della generazione delle Bicomaci. Ma no, ti sbagli. Tutti adoravano le Bicomaci. E forse ancora adesso le avano. Che rimanga tra noi. In realtà all'inizio volevo diventare un idol. Ma ho avuto dei casini e alla fine ho rinunciato. Tutto sommato ora mi trovo bene come youtuber. Allora unisciti a noi. La nostra agenzia gestisce le nuove Bicomaci. E ultimamente stanno cercando nuovi membri. Mi stai chiedendo di entrare nelle Bicomaci. Dai, non scherzare. Ah, Arima! Oddio, oddio! Oddio, 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 oddio! Oddio! Mi sto facendo sotto dalla paura! Cosa? Meno male che fino a poco fa sembravi star bene. E che si sta avvicinando l'ora del concerto. Che devo fare? Tu invece non sei spaventata? Ovviamente no. Quanti anni pensi che abbia passato in questo mondo? Le persone mentono con molta facilità. Infatti, le tue mani sono molto gelide. E in realtà anche tu sei nervosa, dico bene? Ma sei scena! Non cado così in basso da dover farmi compiacere da te! Un famoso detto diceva che anche Abbaia non morde. Però sono sollevata. Sapere che anche tu sei spaventata mi fa sentire più tranquilla. Aspetta. Sei più spaventata di quanto penso? Andrà tutto bene. Staremo tutti insieme là fuori. È proprio per questo che la cosa non va affatto. È tutta colpa vostra. Se salissi sul palco da sola non avrei problemi. Dopotutto ho fatto un sacco di figure di merda in passato. Ma stavolta ci sarete voi due a fianco a me. Non voglio che voi falliate. Non voglio che passiate un'esperienza così tanto orribile. Proprio perché non sono da sola. Ho paura. Non so nulla della tua vita quando eri una bambina prodigio. Ne so come venga considerato la tua carriera ad attrice finora. Per quanto mi riguarda, tu sei una ragazza come me. Una gran lavoratrice adorabile. E sei un idol esordiente come tutte le altre. Fallire è una cosa normale. L'importante è divertirsi. Forza, andiamo a cambiarci. Muoviamoci, Arima! Credevo che il 2.5D si concentrasse sugli elementi Boy's Love. Mi sbaglio. Effettivamente nel manga sono presenti parecchie coppie etero. Ma ovviamente molte ragazze sono interessate a scene di quel genere. Toki è un personaggio comprimario, ma gli elementi da commedia romantica lo hanno reso popolare anche tra i maschi. Pensa che ogni settimana avvengono discussioni su chi sceglierà tra la protagonista e la sua alleata. Se non sbaglio, l'alleata di Toki è Tsurugi. Quel ruolo verrà assegnato a qualcuno presto. Chissà chi lo daranno. Lo farò io. Arima. Potreste finirla di postare foto in tempo reale? In questo modo rischiate solo di diventare vittime di stalking o molestie da parte di fan malintenzionati. È buona norma programmare gli orari delle foto all'aperto da postare. Vuoi forse trascinare chi ti sta intorno in un altro casino? Non hai imparato la lezione? A cane Kurokawa. Quindi sarai tu ad interpretare Tsurugi. Da quanto tempo non lavoriamo assieme. E io che pensavo avessi smesso del tutto. Dopotutto adesso fai l'idol. A cane. E a te sta bene restare confinata su quei piccoli palcoscenici venendo sottopagata. Oh, ma ora che ci penso, di recente non hai partecipata a quel dating show? Significa che hai venduto la tua privacy per un po' di popolarità? Sono contenta per te. Arima. Ad ogni modo. Essendo nei paraggi ho pensato di avvertirvi. Per il vostro appuntamento di lavoro vi consiglio di andare altrove. Ciao. Uffa. Amore star è già finito. Ehi Ruby, ma cosa hai provato quando hai visto tuo fratello baciare una in tv? Cosa ho provato, dici? Direi una marea di sentimenti super incasinati. E ci credo. E' stato cinque volte più imbarazzante di quando vidi una scena di bacio tra fratelli in una serie tv. Wow. E comunque preparati. Dopotutto presto incontrerai a cane. Voglio dire, è la ragazza di tuo fratello. Finanzata. Parlavate di amore star? Oh. Eh sì. Ehi Shiranui. Lo seguivi anche tu? Ci partecipava qualcuno che conosco. E' stato interessante. Non c'è motivo di farsi tanti problemi. Era pieno di fusti e belle figliole. Oh. Davvero una gioia per gli occhi. Una gioia per gli occhi? Allora anche le star dicono cose del genere. Nessuno si schifa davanti ad un bel viso. Ho sbaglio. Un vero tocca sana per gli occhi. Sento come se la mia vita fosse migliorata di mezzo grado. È pure spiritosa! Ah! 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 Ti chiedo scusa. Per me ormai è finita. Fortunatamente tu non sembri ferito. Oh. Mi chiedo se il concerto di oggi verrà cancellato. Mi dispiace tantissimo per tutti. Anche la data di uscita del film era stata fissata. Scusati col regista da parte mia. Ehi Rubi. Il palletto che hai fatto all'asilo era bellissimo. Stavo pensando che un giorno tu potresti diventare un idol. Quanto sarebbe bello avere una figlia come me. Madre e figlia che si esibiscono insieme. Sembra divertente, vero? E tu acqua farai l'attore. Sono curiosa di come sarete d'adulti. Ma quanto avrei voluto vedervi con gli zainetti il primo giorno di scuola. E nel giorno dei genitori sentirmi dire dagli altri che io fossi troppo giovane per essere la vostra mamma. Quanto avrei voluto vedervi crescere. Stando al vostro fianco. Non sarò stata la migliore delle madri. Ma sono felice di avervi potuto mettere al mondo. E poi ovviamente... Oh... Devo dirvelo. Rubi... Acqua... Vi amo tanto. Oh... Sono riuscita a dirvelo. Mi dispiace di averci messo così tanto. Sono sollevata. Queste parole non sono bugie. Ma la verità. Ecco. Ecco. Grazie a tutti.